In questo tutorial vediamo degli esempi di equazioni di grado superiore al secondo risolubili attraverso scomposizioni. Partiamo da questo primo esempio. Per risolvere questa equazione dovremo effettuare un raccoglimento parziale. Fisso l'attenzione sui primi due termini e sui secondi due termini. Nei primi due termini posso mettere in evidenza 3x alla seconda, poi per, apro la tonda, 3x alla terza diviso 3x alla seconda, quello che resta è x, poi 3x alla seconda diviso 3x alla seconda, quello che resta è più 1. Per quanto riguarda i secondi due termini metto in evidenza meno 1, quello che resta è x più 1. Chiudo la tonda uguale 0. Osservo ora che questi due termini hanno il fattore x più 1 in comune. Posso allora effettuare un raccoglimento totale. Metto in evidenza x più 1 per, apro la tonda, questa quantità diviso x più 1, quello che resta è 3x alla seconda, poi questa quantità diviso x più 1, quello che resta è meno 1. Chiudo la tonda uguale 0. Ora ho il prodotto di due fattori uguali a 0 e allora porro uguale a 0 prima il primo fattore, poi il secondo fattore. Partiamo dal primo fattore. Scrivo x più 1 e lo pongo uguale 0. Porto 1 a secondo membro ed ottengo x uguale meno 1. Ora pongo uguale a 0 il secondo fattore e scrivo 3x alla seconda meno 1 uguale 1. Divido ora tutte e due membri per 3 e semplifico il coefficiente della x. Ottengo così un'equazione spuria e allora estraggo la radice quadrata di tutte due membri radice quadrata di x quadro uguale più o meno radice quadrata di un terzo. Ora semplifico la radice con la potenza 2 a primo membro. Quello che ottengo è x uguale più o meno, la radice di 1 è pari a 1 fratto radice di 3. Ora razionalizzo, moltiplico numeratore e denominatore per radice di 3 ed ottengo x uguale più o meno radice di 3 fratto radice di 3 per radice di 3 ottengo 3. E allora questa equazione ammette tre soluzioni e sono meno 1 più radice di 3 su 3 meno radice di 3 su 3. Vediamo questo secondo esempio. Per risolvere questa equazione effetto un raccoglimento parziale. Per quanto riguarda i primi due termini metto in evidenza x alla seconda per x alla terza diviso x alla seconda resta x, poi 3x alla seconda diviso x alla seconda resta più 3. Per quanto riguarda i secondi due termini metto in evidenza meno 1. Apro la tonda, quello che resta è x più 3. Chiudo la tonda uguale 0. Osservo ora che questi due termini hanno il fattore x più 3 in comune. Effetto allora un raccoglimento totale. x più 3 per, apro la tonda, questa quantità diviso x più 3 resta x alla seconda. Questa quantità diviso x più 3, quello che resta è meno 1. Chiudo la tonda uguale 0. Ora ho il prodotto di due fattori uguali a 0 e allora porrò uguale a 0 prima il primo fattore, poi il secondo fattore. Iniziamo dal primo fattore e scrivo x più 3 uguale 0. Portando il 3 al secondo membro si ottiene x uguale meno 3. Passiamo ora al secondo fattore. Escrivo x alla seconda meno 1 uguale 0. Ho un'equazione pura. Porto 1 al secondo membro, x alla seconda uguale 1, ed ora estraggo la radice quadrata di tutti e due membri. A primo membro semplifico la radice con la potenza 2 ed ottengo x uguale più o meno la radice di 1 risulta essere pari ad 1. E allora questa equazione ammette tre soluzioni che sono meno 3 più 1 e meno 1. Passiamo a questo terzo esempio. Per risolvere quest'equazione effettuo un raccoglimento parziale. Nei primi due termini metto in evidenza x alla seconda per, apro la tonda, x alla terza diviso x alla seconda ottengo x meno 3x alla seconda diviso x alla seconda, quello che resta è meno 3. Per quanto riguarda i secondi due termini metto in evidenza meno 4, apro la tonda, meno 4x diviso meno 4 ottengo x, poi 12 diviso meno 4 ottengo meno 3, chiudo la tonda uguale 0. Osservo ora che questi due termini hanno il fattore x meno 3 in comune. Effettuo allora un raccoglimento totale, x meno 3 per, ed apro la tonda. Questa quantità diviso x meno 3, quello che resta è x alla seconda, poi questa quantità diviso x meno 3, quello che resta è meno 4, chiudo la tonda, uguale 0. Ora ho il prodotto di due fattori uguali a 0 e porrò uguale a 0 prima il primo fattore, poi il secondo fattore. Partiamo dal primo fattore, x meno 3 uguale 0. Porto meno 3 al secondo membro ed ottengo x uguale 3. Ora porrò uguale a 0 il secondo fattore, x alla seconda meno 4 uguale 0 uguale 0. Porto meno 4 al secondo membro, x alla seconda uguale 4. Estraggo la radice quadrata di tutte e due i membri, semplifico la radice con la potenza 2 ed ottengo x uguale la radice di 4 è 2 e quindi scrivo più o meno 2. E allora questa equazione ammette tre soluzioni, sono 3 più 2 e meno 2. Vediamo questo quarto esempio. Per risolvere questa equazione posso effettuare un raccoglimento totale. Metto in evidenza una x, apro una tonda, 2x alla terza diviso x ottengo 2x alla seconda, meno 5x alla seconda diviso x ottengo meno 5x, meno 3x diviso x, quello che ottengo è meno 3, uguale 0. Ora ho il prodotto di due fattori uguali a 0 e allora porremo uguale a 0 prima il primo fattore, poi il secondo fattore. Partiamo dal primo fattore, ossia x, e scrivo x uguale 0. Ora poniamo uguale a 0 il secondo fattore e allora scrivo 2x alla seconda meno 5x meno 3 uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado completa che vado a risolvere. x uguale meno b, ossia 5, più o meno, radice quadrata di meno 5 alla seconda, ottengo 25. E poi meno 4 per 2 ottengo meno 8 per meno 3 e scrivo più 24. Tutto quanto fratto 2a. Visto che a è pari a 2, scrivo fratto 4. 25 più 24 è pari a 49 e allora cancello e scrivo direttamente 49. Estragora la radice quadrata di questo numero ed ottengo 5 più o meno 7 fratto 4. Separo ora le due soluzioni e scrivo 5 più 7 fratto 4 e 5 meno 7 fratto 4. 5 più 7 otteniamo 12 diviso 4 e si ottiene 3. 5 meno 7 è pari a meno 2 e quindi abbiamo meno due quarti. Semplificando si ottiene meno un mezzo. E allora questa equazione ammette tre soluzioni e sono 0, 3 e meno un mezzo. vediamo quest'ultimo esempio. Per risolvere questa equazione effettuiamo un raccoglimento totale. Scrivo x per, apro la tonda, quello che resta è 3x alla seconda meno 4x meno 4 uguale 0. Ora abbiamo il prodotto di due fattori uguali a 0. Poniamo uguale a 0 prima il primo fattore e allora scrivo 3x alla seconda meno 4x meno 4 uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado completa e allora applico la formula risolutiva. Meno b e quindi scrivo 4 più o meno radice quadrata di meno 4 alla seconda ottengo 16 e poi meno 4 per 3 per meno 4 ottengo più 48. Tutto quanto fratto 2a. Visto che a è pari a 3 scrivo fratto 6. Somora 16 con 48 ed ottengo 64 e allora cancello e scrivo direttamente 64. Estragora la radice quadrata di questo numero ed ottengo 4 più o meno 8 fratto 6. Separo ora le due soluzioni. 4 più 8 fratto 6 e 4 meno 8 fratto 6. 4 più 8 ottengo 12 diviso meno 6 ed ottengo 2. 4 meno 8 ottengo meno 4 fratto 6. Semplificando si ottiene meno 2 terzi. E allora questa equazione ammette tre soluzioni e sono 0, 2 e meno 2 terzi. E con questo termino il tutorial su esempio di equazioni di grado superiore al secondo risolubili attraverso scomposizioni.